Musica Risolto il giallo dello spettacolo il piccolo principe a Isernia, solo un equivoco, nessuna truffa. Collisione all'allargo della costa di Termoli, affonda un peschereccio. In Molise è partita oggi la campagna vaccinale contro i virus influenzali e il Covid-19. Migranti in estenuante attesa davanti alla questura di Isernia per i documenti intervengono i sanitari. La piazza del Verlasce di Venafro in stato di abbandono, Franco Valente, il comune se la riprenda. Ben trovati cari telespettatori all'appuntamento con l'informazione di TVI Molise. Iniziamo con i disagi sulla tratta ferroviaria Roma-Isernia. Saranno due treni interessati da modifiche di percorso per i lavori di potenziamento infrastrutturale. Alla stazione Termini dureranno fino al 25 di ottobre. I viaggiatori del treno che parte dalle 6.15 da Roma confermata a Venafro alle 8.05 e arrivo ai Sernia alle 8.35 dovranno dunque prendere un bus sostitutivo fino a Cassino per poi salire sul treno delle 7.42. Anche l'ultimo treno che parte dai Sernia alle 20.35 confermata a Venafro alle 20.54 e in arrivo a Roma alle 22.55 subirà delle modifiche. Infatti terminerà il suo tragetto a Cassino alle 21.16. Ancora a proposito di orari dove i passeggeri troveranno il bus che li porterà a Roma. Isernia nessuna truffa e nessun falso per lo spettacolo Il Piccolo Principe ma solo un equivoco con la prenotazione della sala all'auditorium. Lo spettacolo salta ma chi ha comprato il biglietto sarà risarcito. Ce ne parla Carla Marino. Risolto il giallo dello spettacolo Il Piccolo Principe, il viaggio dell'essenziale promosso per le 11 di domenica 20 ottobre all'auditorium di Isernia. Nessuna truffa, nessun falso e nessuno spettacolo fantasma ma solo un equivoco con la prenotazione della sala come spiegato dagli organizzatori. Appuntare i riflettori sulla vicenda era stato lo stesso auditorium 10 settembre 1943 con un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale in cui si comunicava che lo spettacolo non era inserito nel cartellone eventi della struttura teatrale e si invitava pertanto a non prenotare. situazione ribadita anche dall'assessore comunale alla cultura. Tutto ciò nonostante la presenza da giorni in città delle locandine pubblicitarie dello spettacolo e dell'avvio della prevendita dei biglietti per assicurarsi un posto in sala. Una questione su cui era calato il mistero e che aveva suscitato dibattito anche sui social e su cui ora fa luce la stessa compagnia teatrale organizzatrice dell'evento contattata da TVI al numero di telefono indicato sulla locandina. Dall'auditorium hanno diramato una nota attraverso Facebook. Sì, infatti adesso mi ha chiamato l'assessore, infatti l'associazione che ci aveva dato in gestione la mattinata dice che non aveva fatto comunicazione al comune, adesso diceva non sapevo nulla. Ho capito, e quindi adesso come si procederà? Quindi molto probabilmente salta sicuramente, Isernia salta, però il tempo basso è accantato. A fronte di questo disguido l'appuntamento su Isernia è saltato, ma chi ha già acquistato il biglietto non deve preoccuparsi, aggiungono gli organizzatori, perché l'importo sarà rimborsato. Quindi diciamo chi ha comprato il biglietto per Isernia si può scoprire? Sì, si verrà rimborsato, verranno rimborsati. Intanto fanno sapere gli organizzatori, a Campobasso lo spettacolo andrà in scena regolarmente, si terrà alle 16 e poi alle 17.45 di domenica 20 ottobre presso l'auditorium ex GIL. Una notizia quest'ultima confermata anche attraverso questa nota dell'assessore alla cultura del comune di Isernia che conferma la buona fede dell'amministrazione di Palazzo San Francesco nella vicenda, che in realtà è quanto pare un equivoco. Luca De Martino infatti afferma che nessuna richiesta per inserire lo spettacolo del piccolo principe all'auditorium è mai arrivata al comune per le vie ufficiali. Pertanto Palazzo San Francesco ha solo precisato che lo spettacolo non era stato prenotato né era in programma all'auditorium. In conclusione, solo un gigantesco equivoco, lo ribadiamo, che è coinvolto un po' tutte le parti in causa. Comunque chi vuole assistere allo spettacolo in questione del piccolo principe potrà regarsi senza problemi domenica alle 16 o alle 17.45 come peraltro ha annunciato la nostra carra marino nel precedente servizio all'auditorium dell'ex GIL di Campobasso dove lo spettacolo sarà regolarmente allestito. Durante la pesca notturna a Termoli, al largo della costa, sono entrati in collisione due pescherecci a causa del violento impatto. Uno è affondato. Gerardo De Luca Collisione a largo della costa di Termoli tra i pescherecci Nonno Rocco e Tortuga prima della mezzanotte durante la pesca notturna. Entrambe le imbarcazioni sono riuscite a rientrare nel porto ma per il Nonno Rocco, noto per aver trasportato la statua di San Basso durante la processione dello scorso 3 agosto, è stato necessario il rimorchio. Infatti, l'urto ha interessato la prua dell'imbarcazione sul fianco sinistro facendo imbarcare acqua al peschereccio che successivamente si è inclinato. Subito è intervenuta sul posto la Capitaneria di Porto per tentare di portare l'imbarcazione fino all'area cantieri purtroppo però la barca è affondata vicino alla banchina. Ad intervenire anche il 118 Molise e la Misericordia di Termoli che hanno prestato soccorso ai due membri dell'equipaggio il comandante dell'imbarcazione, un 48enne di Termoli che era in forte stato di agitazione ed un abruzzese di 58 anni che nello scontro ha riportato una contusione alla spalla. Sarà ora la Capitaneria di Porto che dovrà individuare le eventuali responsabilità di quanto accaduto. Ad ora ci richiamo in Alto Molise per i lavori all'interno della Galleria Serre che stanno creando agli utenti e agli automobilisti non pochi disagi parla Andrea Greco che commenta si procede a rilento situazione inaccettabile soprattutto per i mezzi di soccorso. Lavori alla Galleria Serre lungo la Trignina per il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco si tratta di una situazione inaccettabile per tutti gli utenti ma soprattutto per i mezzi di soccorso. Non esiste infatti, sottolinea Greco, nessun protocollo che consenta alle ambulanze del 118 o ai vigili del fuoco di bypassare la coda ai semafori. Una situazione, ribadisce l'esponente Pentastellato che rischia di mettere in pericolo la salute di chiunque necessiti di interventi rapidi come nel caso di persone colpite da patologie tempodipendenti. Non è nemmeno ipotizzabile quello che oggi invece accade su questa strada. Quando arrivano i mezzi di soccorso sono costretti a fermarsi perché una delle due carreggiate è occupata da detriti e mezzi d'opera. Questo significa letteralmente mettere in pericolo quei cittadini che vengono colti da patologie tempodipendenti che dall'Alto Molise sono costretti o ad andare verso Campobasso o appunto fermarsi qui in piena coda sulla statale. Tra l'altro, Greco ritiene impensabile che i lavori vadano avanti solo nelle ore diurne. Mesi di blocco sulla strada statale 650 sono inaccettabili ed è un fatto assurdo che questa strada resti chiusa per sei mesi, pensate. Qui bisognerebbe lavorare notte e giorno per garantire una riapertura al traffico più veloce possibile. Invece no, i lavori vanno a rilento, la notte non si lavora e non si lavora nei festivi. Quindi il mio è un appello che va al presidente della provincia, quindi responsabile della viabilità, al presidente della regione, all'assessore regionale, a chiunque oggi ha voce in capitolo su questa situazione. È inaccettabile, bisogna pretendere da ANAS che qui si lavori notte e giorno. Per questi motivi il consigliere regionale preannuncia battaglia in tutte le sedi opportune. Porteremo il caso in consiglio regionale, scriverò al prefetto, scriverò a chiunque può aiutarci a uscire da questo stato di cose. Insomma, non c'è pace per le infrastrutture viarie in alto molise, ma andiamo avanti, si rinnova l'emergenza dei migranti in attesa davanti alla questura di Sernia per i documenti necessari per l'asilo politico. Ce ne parla Gerardo De Luca. Si rinnova l'emergenza dei migranti che attendono davanti alla questura di Sernia i documenti per l'asilo politico, una vicenda che va avanti da anni. Stavolta il problema è legato alla disponibilità di generi alimentari. Da giorni, infatti, i migranti in attesa hanno difficoltà nel reperire cibo e acqua, così il personale di Sernia Soccorso ha deciso di aiutarli. Nella mattinata di oggi, infatti, i sanitari, dopo un intervento che li ha visti impegnati nei pressi della questura, hanno deciso di acquistare loro stessi generi di prima necessità e consegnarli personalmente ai giovani che stazionavano sul marciapiede. Non è la prima volta che si assiste a emergenze umanitarie di questo tipo, con i malcapitati che si ritrovano a dover sopportare i morsi della fame nell'attesa di ricevere i documenti di cui hanno bisogno. Tuttavia, questa volta, fortunatamente, grazie all'intervento del personale di Sernia Soccorso, i giovani hanno ricevuto i beni di prima necessità per essere almeno sfamati nella loro lunga attesa. Il questore di Campobasso, Tatarelli, ha emesso otto fogli di via nei confronti di altrettante persone con pregiudizi penali e di polizia, di cui è stata riscontrata la presenza sul territorio provinciale senza giustificato motivo. Inoltre, sono stati adottati i seti avvisi orali nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose. Infine, tra le misure adottate per porre un freno ad atteggiamenti violenti legati alla movida del fine settimana sono stati emessi anche quattro diversi provvedimenti finalizzati proprio a vietare l'accesso a determinati esercizi pubblici. Crisi idrica, è necessario un progetto regionale ma che sia condiviso e soprattutto unico. Così il consigliere comunale d'opposizione al comune di Campobasso, Nicola Cefaratti. Il sistema è troppo complesso, ha affermato e lo ha intervistato per noi Francesco Adamo. Campobasso sta vivendo una crisi idrica senza precedenti. Per la prima volta il capologo regionale sta e dovrà ancora per qualche tempo andare incontro a chiusure programmate dei serbatoi dell'acqua. Sull'argomento è intervenuto il consigliere comunale di opposizione, Nicola Cefaratti. Un sistema troppo complesso. È necessario un progetto regionale unico. Oggi noi abbiamo un soggetto che gestisce la capotazione e la distribuzione principale che è Molise Acque. Poi abbiamo un ente di governo unico che è Legam. Poi abbiamo un altro soggetto che è il soggetto operativo che interviene sulle reti ed è la Grim. Quindi tre soggetti che vanno necessariamente coordinati. Un sistema che va rivisto nei contenuti. Noi dobbiamo immaginare un approccio nuovo, dobbiamo immaginare come dicevo poc'anzi un utilizzo diverso della risorsa idrica. Dobbiamo recuperarla, recuperarla a monte, nelle colline con dei bacini artificiali, con dei piccoli laghetti. Dobbiamo utilizzarla meglio a valle, cioè evitare il 50, 60, 70% di spreco. E poi dobbiamo anche rimettere mano alla governance di questo sistema. Perché oggi questo sistema viene gestito da alcuni sindaci che ad esempio non pagano anni l'acqua a Molise Acque. Necessario un adeguamento economico, inevitabile un aumento dei costi dell'acqua. Il costo di un metro cubo di acqua che oggi è di circa 25 centesimi a metro cubo alla Molise Acque appunto è un costo troppo basso rispetto ai costi che servono per garantire che l'acqua arrivi alle nostre case. Sistemi di capotazione, sistemi di sollevamento, sistemi di distribuzione. Così come credo che dobbiamo anche essere chiari nel dire che il costo di un euro, un euro e 50 metro cubo dell'acqua per noi cittadini sarà nei prossimi anni inevitabilmente aumentato. Io dico sempre che non è pensabile che un metro cubo di acqua, mille bottiglie di acqua che noi compriamo a 0,40 centesimi possa costare appunto un euro e 50. Un rapporto 1 a 800, 1 a 1000 si verificherà a breve che sarà questo dato assolutamente da adeguare. Con la somministrazione della dose al direttore sanitario dell'Asrem Bruno Carabellese e alla direttrice amministrativa, si tratta di Grazia Matarante, nei locali del distretto socio-sanitario di Via Toscana a Campobasso, che state ora vedendo, è partita oggi la campagna vaccinale in Molise contro i virus influenzali e il Covid-19. Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale mira a raggiungere una copertura del 75% tra i gruppi cosiddetti a rischio. Per facilitare l'accesso della popolazione saranno anche programmati open day regionali nei mesi di novembre e dicembre a cura dei servizi vaccinali dell'Asrem. La piazza del Verlace di Venafro versa in uno stato di abbandono. Franco Valente, il Comune, la riprenda dalla soprintendenza. A Venafro, tra i pioppi secolari del Verlace, un luogo incantato e abbandonato. La definizione un bel posto è anche riduttiva. L'anfiteatro romano, risalente al I secolo a.C., è conosciuto e apprezzato, soprattutto fuori Venafro, a giudicare dai turisti che, nonostante le condizioni non impeccabili del sito, arrivano fin qui e, qualche volta lo abbiamo visto anche noi, ne rimangono colpiti. Sono stato sorpreso più che colpito dalle bellezze che ci sono. Ma il Verlace, a quanto si vede dalla sporcizia lasciata a terra, è per lo più meta di incivili, che non ne conoscono l'importanza storico-archeologica e che quindi non sanno scorgervi la bellezza unica celata tra quei resti diroccati. Questo che è uno dei monumenti più importanti, io dico d'Italia, non solo dalla regione molise, sia ridotto in questo stato. La piazza dell'Anfiteatro è di proprietà comunale. Il Comune l'ha ceduta in uso temporaneo alla soprintendenza dei beni archeologici e paesaggistici del Molise, che ha anche in concessione l'edificio, ovvero le 36 stalle. La soprintendenza quindi ha la manutenzione di tutto. È alla manutenzione di questo largo, questa parte dove noi stiamo mettendo i piedi. Quindi la responsabilità è unica della soprintendenza che non provvede alla pulizia. E poi c'è una responsabilità del Comune che non vigila. Il Comune è il responsabile, il sindaco in prima persona, è responsabile della decenza urbana, quindi dell'igiene, della sistemazione degli spazi. Quindi dovrebbe provvedere e chiedere la restituzione di questa piazza. Se la soprintendenza non è in grado di gestirla, la restituisca al Comune e il Comune darà questo spazio a una cooperativa, a dei giovani, a qualcuno che ne faccia un uso compatibile con l'importanza e la bellezza del monumento. La Fonderia Marinelli festeggia il centenario della concessione del titolo pontificio. Poste italiane celebra la ricorrenza con l'emissione di un francobollo dedicato al raro e prestigioso riconoscimento. Il francobollo, ancora segretato, sarà presentato ufficialmente domani a Roma nella Sala degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nella mattinata del 31 ottobre invece presso la Fonderia Marinelli ad Agnone sarà a posto l'annullo filatelico. A Campobasso invece è necessaria una programmazione di eventi per la Via Matris, così il consigliere comunale d'opposizione Mario Annuario, che è tornato sul tema affermando dalla sua riapertura nulla è stato fatto. Via Matris di Campobasso, riaperta, sì, ma a quali condizioni? Sullo storico e suggestivo percorso che costeggia la collina Monforte è tornato a porre attenzione il consigliere Mario Annuario. La Via Matris ad oggi è un percorso poco valorizzato. È stata riaperta ma senza dargli una giusta valorizzazione. Proprio per questo sono tornato sul tema, per chiedere una maggiore attenzione sul sito, visto che è un sito importante per la nostra città, ma è poco attenzionato sia da questa amministrazione sia anche dalla precedente, perché come le dicevo ci sono state aperture e chiusure continue ma senza dargli la giusta attenzione. Necessario organizzare eventi ad hoc. Oltre chiaramente alla gestione ordinaria per quanto riguarda l'arredo urbano, la pulizia si potrebbero fare tanti eventi. Io vorrei proporre proprio un evento come quello del presepe vivente che già ci fu nel lontano 2013 e atterrò tantissime persone. Fu veramente una cosa bellissima. Ho già chiesto alla commissione competente urbanistica di cui faccio parte di dare la giusta attenzione anche attraverso eventi culturali, eventi come le dicevo su magari una manifestazione del presepe vivente visto e considerato che Natale ha le porte. L'azienda autonoma di soggiorno e turismo del Molise sarà presente con uno stand alla 21esima edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze in programma dal 1 al 3 novembre prossimo al Centro Esposizioni di Lugano. L'evento con oltre 400 espositori provenienti da ben 60 paesi rappresenta un'opportunità unica per promuovere anche il nostro Molise. Bene, con questo obiettivo è proprio tutto. Il nostro Tg termina qui. Grazie per l'attenzione. Cari telespettatori, la linea dunque può tornare all'Aquila. Grazie. 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 Grazie.